Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. In apertura del nostro telegiornale torniamo a parlare dell'emergenza al riscaldamento nelle scuole della città. Dopo tutte le polemiche che si sono create su Facebook, dopo la denuncia del sindaco Emiliano tra sabato e domenica, il presidente della provincia, Francesco Schittulli, decide di sciogliere il silenzio e convoca una conferenza stampa. Un po' per fare il punto della situazione, un po' per rispondere alle polemiche di Michele Emiliano. Vediamo. Quasi del tutto risolta l'emergenza al riscaldamento nelle scuole di Bari. Al momento sarebbero tre le criticità ancora in corso ma in via di risoluzione. Parliamo degli istituti Vivante, Cirillo e Scacchi, in cui in queste ore i tecnici stanno lavorando per assicurare agli studenti entro la mattinata di domani un ambiente riscaldato. Un'emergenza gestita in poche ore che ha coinvolto un lotto di 60 scuole per la maggior parte cittadine rimaste con gli impianti spenti a causa della dichiarazione di fallimento della ditta appaltatrice della manutenzione. Problemi anche al bianchi dottule e all'istituto Majorana Palese rimaste senza gasolio, ma per cui si sta provvedendo al rifornimento. Ma la conferenza stampa di questa mattina in provincia, convocata dal presidente Schittulio, è servita in larga parte a placare le polemiche create online dal sindaco Emiliano. Presenti in sala molti dirigenti scolastici accorsi in via Spalato, non per lamentare le basse temperature all'interno delle aule, ma per denunciare l'allarmismo che le parole del primo cittadino avrebbero causato tra gli studenti tra sabato e domenica. Solo domenica pomeriggio ha chiusato la preside del Panetti e ho ricevuto moltissime chiamate da genitori e ragazzi spaventati dalle parole del sindaco. Ci ho messo tanto a convincere gli istituti a non scioperare e Michele Emiliano con due parole a resovano il mio sforzo. Ragazzi strumentalizzati è stato il leitmotiv tra le prime file, un atteggiamento secondo presidente, assessori e consiglieri comunali intervenuti che ha il sapore della campagna elettorale. In un mondo ideale, ha dichiarato Nuccio Altieri, vicepresidente della provincia, ci sarebbe stata collaborazione. Dal comune ci avrebbero inviato tutto l'aiuto possibile per risolvere l'emergenza, invece di fomentare gli animi tramite internet. Farò sostituire l'albo pretorio con Facebook, ha scherzato invece Schittulli, così avremo comunicazioni istituzionali in tempo reale. Io non ho ricevuto alcuna chiamata, ha continuato il presidente, contrariamente a quanto riferito da Emiliano. Ieri sera l'ho addirittura visto nel foyer del teatro Petruzzelli e non ha neanche accennato all'argomento. Questa mattina, invece, ecco che mi recapitano la lettera già in possesso dei giornalisti. Io lo invito ad un atteggiamento più istituzionale. Manforte arriva anche dall'opposizione a Palazzo di Città. Il primo cittadino si preoccupa delle scuole e tace sulle condizioni degli uffici comunali e giù con l'elenco delle ripartizioni, ancora con i termosifoni spenti. È una nuova denuncia parte dal centrodestra appunto a Palazzo di Città. La ripartizione ai lavori pubblici si sarebbe letteralmente dimenticata dello schema delle opere pubbliche, la cui adozione sarebbe dovuta avvenire entro il 30 settembre. Quali le conseguenze di questa dimenticanza, anche gravi, ce le anticipa in questa intervista Giuseppe Loiacono, capogruppo della lista Simeone. Sentiamo. È strano, davvero strano, che dopo oltre 12-13 anni di una situazione ormai consolidata, questo è un procedimento ormai automatico, nel senso che lo schema delle opere pubbliche deve per legge essere adottato entro il 30 settembre, al fine di poterlo pubblicare per i due mesi successivi e quindi di consentire la massima partecipazione rispetto agli interventi che sono inseriti nello stesso piano delle opere pubbliche. Quali saranno le conseguenze non lo sappiamo, però noi temiamo che vi siano delle ripercussioni giuridiche sull'approvazione del prossimo piano triennale delle opere pubbliche. Questo è un fatto gravissimo e dimostra come l'amministrazione emiliano abbia del tutto distrutto quella ripartizione edilizia pubblica con il cambio di dirigenti e di tutta evidenza, anche da quello che si vede in Consiglio Comunale, dove arrivano provvedimenti carenti sotto ogni aspetto e questo comporterà sicuramente delle conseguenze per la prossima programmazione. E Telebari, come promesso, questa mattina ha fatto visita agli ambulanti di Piazza del Ferrares sul piede di guerra, dopo il trasferimento obbligato della Galleria di Corso Cavour avvenuto alla fine dell'estate, oggi chiedono all'amministrazione comunale una sistemazione più consona alle loro esigenze. Vediamo perché in questo servizio di Cristina Ferrigni. E chi direbbe mai, guardando la facciata di uno dei più antichi palazzi di Bari che all'interno dello storico mercato del pesce si nasconde un mercatino di ambulanti. Ebbene sì, in Piazza Ferrarese da oltre 4 mesi su disposizione comunale i 17 ambulanti che prima occupavano la Galleria di Corso Cavour con le loro bancarelle di oggetti vari oggi cercano di sbarcare Lunario all'interno del mercato coperto nel cuore del quartiere Murattiano. Per l'amministrazione comunale che aveva investito oltre 20.000 euro per il restauro dell'immobile sembrava la giusta soluzione, ma la realtà è ben diversa. Le ambulanti sono in grave sofferenza per più di un motivo. In questa zona, dicono, non c'è passeggio, la struttura non è adeguata all'allestimento delle bancarelle, in più non ci sono insegne che indichino la presenza di un mercato. Risultato? Guadagno pari allo zero, tanto freddo e gazebi coperti. Una situazione che non permette ai commercianti di pagare nemmeno l'affitto per l'occupazione del suolo pari a 600 euro l'anno. Voi siete qui da 4 mesi, come vanno gli affari? È malissimo, dal primo giorno. Si riesce a vendere qualcosa soltanto quando vengono i turisti, ma diciamo roba di poco conto. Non vendere niente qui. Al giorno 3 euro, 5 euro, 10 euro. Così non posso andare avanti. Non va bene. Non posso pagare cassa, affitto, mangiare. Sempre debito qua. Non va bene. Come pensate di affrontare il Natale in questo modo? Come lo dobbiamo affrontare? Qua si parla tutto di crisi. Purtroppo è zitto, ve lo giuro qua. Lei se sta qui non vede di entrare una persona. L'appello degli ambulanti a Telebari è rivolto all'amministrazione comunale tutta, al sindaco, all'assessore al commercio Franco Alvore, che però ha preferito non commentare. Noi chiediamo di andare a rispettivi posti dove stavamo. Cioè? Tornare in corso Cavour? Cavour, sì. Perché loro se vogliono fanno. Ma hanno fatto 4-5 mercatini attualmente. E si è svolta stamattina nella sala consigliare di Palazzo di Città la cerimonia di saluto per i dipendenti del Comune di Bari è andata in pensione nel corso dell'ultimo anno. A presiedere la cerimonia il consigliere comunale Emanuele Martinelli che ha consegnato agli ex dipendenti una medaglia a ricordo in segno di riconoscimento per il lavoro prestato con impegno e dedizione presso il Comune di Bari. Cambiamo argomento. Sarà presto attivato il nuovo collegamento ferroviario da Bari con l'aeroporto Carol-Waitila. È una delle novità presentate oggi da Ferro Trambiaria che ha arricchito la sua flotta anche con 10 nuovi autobus. Vediamo. Ferro Trambiaria guarda il futuro e lo fa con nuovi investimenti inseriti nel piano industriale 2011-2015. Oggi l'acquisto di 10 nuovi autobus di nuova generazione per un valore complessivo di 2 milioni di euro insieme con l'acquisizione di due locomotive per il servizio cargo con l'obiettivo di incrementare il parco rotabili già affidato dalla Regione Puglia e incomodato d'uso. Per il prossimo futuro anche l'acquisizione da parte della società di un ulteriore elettrotreno a quattro casse. Ma la novità forse più importante per i viaggiatori è l'atteso collegamento ferroviario da Bari-Città con l'aeroporto Carol-Waitila e l'introduzione di un nuovo sistema di bigliettazione di informazioni al pubblico in tempo reale per un importo complessivo di circa 2 milioni e mezzo di euro. Le novità sono state presentate in una conferenza stampa dal presidente di Ferro Tramviaria Enrico Maria Pasquini e dal direttore generale dell'azienda Massimo Nitti alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti Guglielmo Minervini. Stiamo ragionando su come il trasporto pubblico locale possa nonostante queste condizioni di difficoltà nonostante le ristrettezze dei tagli possa diventare davvero la risposta attraverso la quale la Puglia fornisce un servizio ai cittadini li mette nelle condizioni di reggere alla crisi e nello stesso tempo induce come sta accadendo nel nostro sistema dei trasporti processi di sviluppo economico estremamente virtuosi. E' già corsa al pieno nei benzinai di Bari e provincia dalle prime ore della mattinata è infatti iniziato il conto alla rovescia in vista dello sciopero che inizierà alle 19 di questa sera e proseguirà fino alle 7 del 14 dicembre. La promessa di tenere aperti alcuni punti non è bastata a tranquillizzare gli automobilisti. Le code più lunghe si sono registrate all'Ipercop di Viale Paster nei distributori a ridosso della tangenziale da Iapigia al quartiere Libertà. E la Puglia conferma il suo stato di regione attenta all'ambiente. Nei giorni scorsi infatti la Giunta regionale ha approvato il bilancio 2013 che prevede l'esenzione per 5 anni dal bollo auto per le auto GPL o metano immatricolate nel 2013. In pratica i pugliesi che decideranno di acquistare o convertire un'auto a GPL o a metano a partire dal 1 gennaio 2013 saranno esentati dal pagamento del bollo auto per i prossimi 5 anni dopo i quali le vetture interessate pagheranno solo un quarto dell'imposta. E benvenuti al sud il nome dell'evento svoltosi a Milano per promuovere la cultura e i sapori tipici pugliesi. Oltre ai buyers e agli addetti ai lavori tantissimi volti noti della stampa nazionale e del mondo dello spettacolo che hanno potuto apprezzare un piccolo assaggio della Puglia. Presente all'evento anche l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Dario Stefano. Vediamo. Dal cuore della Puglia al centro di Milano grazie all'evento Benvenuti al Sud realizzato da Cantine Due Palme e da Fede Group con la collaborazione di Davide Maggio Communications e con il patrocinio dell'Associazione regionale dei pugliesi. Location dell'evento il Grand Lounge & Bar Star Hotel Rosa Grandi Milano. Degustazioni di vino e di olio assaggi di prodotti tipici danze salentine la presentazione di un libro e l'esposizione delle preziose maioliche laertine in una prestigiosa cornice per una serata al sapore di Puglia alla quale hanno partecipato oltre a buyers e addetti ai lavori anche volti noti della stampa nazionale e del mondo dello spettacolo. E' il successo della Puglia del meridione d'Italia noi esportiamo la Puglia in tutto il mondo con i nostri vini con i nostri 10 milioni di bottiglie l'80% è esportato e valicano le frontiere nazionali e da qualche anno invece ci riproponiamo di far conoscere i nostri vini sul mercato nazionale perché è giusto che se i nostri vini del Salento sono apprezzati nel mondo sarebbe una cosa bellissima anche farli apprezzare dalle regioni italiane. Io sono allergico all'aglio e stasera però ho mangiato le orecchiette se mi sento male pugliesi perdonati non li mangerò mai più perché sono allergico all'aglio perché sono talmente buoni poi il vino è ottimo poi avete della roba veramente ottima non adatta per quelli che vogliono fare la cura di ma grande come me però è talmente buono tutto che ho divorato tutto ecco mi è piaciuto molto l'olio io sono una gourmand e quindi mi piace trovare dell'olio buono che poi si sposa perfettamente sia sulle orecchiette ma soprattutto sul normalissimo pane e ora si assaggerò anche dolci. All'evento milanese era presente anche l'assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia Dario Stefano. Questa iniziativa di alcune aziende pugliesi qui a Milano riesce da un lato ad attrarre tanta attenzione da parte di tutti gli attori del mondo dell'enogastronomia ma dall'altro riesce anche a recuperare un orgoglio identitario in tutto quel popolo pugliese che è qui a Milano e che si sente coprotagonista di questo successo dei nostri prodotti nel mondo. Nel corso della serata è stato presentato Solo Ritorno il libro del giornalista tarantino Angelo Di Leo suggestivo l'angolo dedicato alle maioliche le artine del Settecento manufatti di eccellenza dell'artigianato artistico italiano. Da noi c'è una tradizione di oltre 500 anni cinque secoli di storia e di perfezionamento di quest'arte ceramica che davvero sta raggiungendo altissimi livelli e che si spera a breve possa essere racchiusa in un museo cittadino per poter dare la possibilità a chi viene a trovarci di poter visionare questa nostra preziosissima arte. Siamo alle previsioni del tempo cielo nuvoloso con possibili rovesci temperature comprese tra i 5 e i 10 gradi venti moderati e mari mossi. In chiusura come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it radiobari.net e infochiocciola nel segno di zorro.it Vi ricordo anche l'appuntamento alle 15.30 con la trasmissione SOS Telebari condotta da Silvia Di Pinto ed è tutto per il nostro telegiornale grazie per averci seguito e buon proseguimento su Telebari. Grazie a tutti! Grazie a tutti.